Un solo quarto alla pari, poi complice anche l'infortunio di Martin, la Virtus sparisce sul campo della capolista Venezia, che è fortissima, determinata a riscattare il primo capo ostagenale arrivato in Coppa, eppure dà l'impressione di non doversi dannare troppo l'anima per travolgere i bianconeri anche oltre il ventello incassato dalla squadra di Sacripanti. Basta la prima fiammata, firmata da un perfetto Tonut, autore di 21 punti, con un tabellino a lungo intonso per mettere a nudo l'attuale fragilità della Sega Fredo. Quodit c'è, ma non gli si possono chiedere più di 15 minuti in campo. Quando Martin si fa male, infortunio muscolare al flessore della gamba sinistra che preoccupa lo staff, la Virtus perde la sua energia e riferimenti difensivi. La Reier fa arrivare palla in aria senza problemi, la V non tiene un solo uno contro uno, Widmar e Watt schiacciano spesso e volentieri. Nei due quarti centrali i Veneti vincono 48-31, dominando al rimbalzo, 43-30, e nella qualità del gioco espressa dai 24 assist. Numeri a cui Venezia è peraltro abituata, così come si sapeva che sarebbe stata l'avversario peggiore per mettere a nudo i difetti del gruppo di Sacripanti. Arriva la seconda sconfitta dopo quella interna contro Cremona e avanzano i dubbi, ma anche la consapevolezza di dover sfruttare questi momenti per crescere. Mercoledì sarà Coppa, a Istanbul contro il Besiktas, poi finalmente il calendario italiano si farà più agevole, con la doppia casalinga al cospetto di Cantu e Torino. Bisognerà ripendere a correre forte in tutti i sensi.